Si sta piegando addosso? Nooo! Vai lì ma se vuol cazzo! 36, Ubrani e Alessio, con Fred, si prepara con 49, 4 e 43 117, 56 e 21 in tre riga Cambia, resta lì dove vai Andrea respira Chiama, chiama Frena lì, frena lì, non andare avanti Vai! Braccio sinistro mostro Super!